Secondo test tutto in famiglia, Palena contro la verdissima, Renato Curi Angolana, team di eccellenza della patrona Gabriele Bancoschi, socio del Delfino. Nel primo tempo Palmiero, regista Brugman Mezzala. 11 gol, triplet di Cisco. Primo ufficiale anche per Cristian Galano nel tridente, completato da Di Grazia e da Tuminello per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta. Due gol, il primo dopo la pressione sul giovanissimo Scurti, classe 2003, il secondo su assist di Zappa Motorino, perpetuo sulla fascia destra. A segno nella ripresa anche Borrelli, spunto personale, ecco le altre reti. Brugman recupera palla, poi allarga il pallone per Tabille, la finta Tabille, destro il gol. C'è stata la deviazione di Fargione, bravo Tabille che si è inserito. Poi un tocco sotto a superare il portiere Fargione. Sinistro di Vattavo, una botta, un gran sinistro, poderoso, con Simone Farelli che è stato molto bravo a deviare il pallone. Attenzione al lancio per Galano, Galano entra in area, Galano col sinistro, poi col destro la conclusione, para a terra Fargione. Entra in area, Zappa il suo destro a incrociare. Il gol del classe 99 di proprietà, ora del Pescara, ex Inter. Alla 44esimo, il poker firmato da Zappa. Vediamo Canutè, accelera il destro il gol. Ndiaie, Ndiaie, che dir si voglia, Cisco, palla indietro, Ventola, il destro gol. 6 a 0. Borrelli chiama in causa il numero 21, 24 scusate, Zappa, palla dentro e c'è il gol questa volta di Cisco, che non può sbagliare. A sinistra c'è Busellato, Ventola, entra in area, bravo Ventola, alza la testa, dribbling il suo invito e c'è il gol, il gol di Cisco. Ancora una volta, trentesimo, doppietto di Cisco. Bravo Ventola a recuperare il pallone. Ancora Ventola che ha scambiato con Diaie, entra in area, Ventola e il destro a rete. Bravissimo Ventola e io ci penserei prima di cederlo questo ragazzo, che è in grande crescita da diversi anni. Allo scadere il gol numero 11 firmato da Cisco, assistito da Borrelli, tripletta dunque per l'esterno di proprietà del Sassuolo, lo scorso anno tra Padova e Albissola e i tifosi del Pescara, se lo ricordano. Molto bene. Conosciamo Andrea Cisco, intanto ti devi far subito perdonare. Sì, sicuramente. Che cosa alludo. Cercherò di farmi perdonare quest'anno e speriamo che mi esca qualche jolly anche con questa maglia. A parte gli scherzi, un grandissimo gol. Tra l'altro noi abbiamo intervistato in estate Filippo Agomeri Antonelli, DS del Monza, Pescarese e Doc, che ha stabilito che tu in realtà non sei un mancino, come sembrava, ma sei un destro. Sì, sono destro, però sono sempre stato abituato a giocare a destra perché sono più un esterno vecchio stile dove attacco la profondità e metto il colosso di destro. Quel giorno là mi sono giocato un jolly e speriamo succeda di nuovo. Senti, poi che cosa è successo? Perché, insomma, primo gol in Serie B, è stata una giornata importante per te, tra l'altro sei entrato in corso d'opera, se non vado errato. A gennaio il trasferimento all'Albissone. Sì, diciamo che è stato un anno un po' strano, ho fatto i miei esordi in B, grazie a Mr. Bisoli, poi mi ha dato un po' di più spazio, ho fatto sei presenze, però diciamo che la situazione del Padova era un po' difficile e ho deciso, siamo un procuratore a Sassuolo, di andare a giocare in prestito in C, dove avrei trovato sicuramente più spazio. Sono andato all'Albissola e ho giocato 15 partite su 15 e mi sento maturato, ho trovato spazio, ho fatto minutaggio e sono contento della mia scelta. Sei pronto per il campionato di Serie B, da protagonista? Da protagonista non lo so, mi farò trovare pronto se il mister lo riterà opportuno e sono contentissimo di questa occasione. Le tue caratteristiche, ti piace, come si dice in gergo, scavallare sulla fascia e poi rientrare col mancino? Sì, sicuramente, le mie caratteristiche, diciamo che punto molto sulla velocità, attacco a profondità e sì, anche l'uno contro uno è una mia caratteristica e speriamo quest'anno di fare abbastanza gol e assist, eccetera. C'è una nutrita concorrenza però, eh? Sì, sicuramente, sono un club che punta ad andare in Serie A, è normale che ci siano pedini importanti, soprattutto in attacco e mi fa piacere perché così, giocando con gente più forte di me, sicuramente migliorerò e cercherò di prendere le cose migliori dei miei compagni. Mi piace Cristiano Ronaldo, però... E basta, mi piace lui. Strano? No, un nome originale. Esatto. Qualche maestro che ti ha insegnato delle cose importanti? Beh, sicuramente Paolo Birra che lavora attualmente nello staff, mi aveva allenato da piccolo, 15 anni. Perché lui è veneto. Esatto, come me. E diciamo l'anno che mi ha fatto esplodere, dove poi sono andato al Padova a 15 anni, è grazie a lui che ha deciso lui di mettermi esterno destro e lo ringrazio. Quindi quando ti è stata prospettata la possibilità di venire a giocare a pescare hai accettato subito anche per questo motivo, diciamo? Sì, sicuramente.